Alla presenza del vice prefetto vicario Rinaldo Argentieri, del questore Antonio Maiorano, del vice sindaco Fabiana Martini e di altre autorità amministrative, militari e civili, questa mattina all'interno della locale casa circondariale è stata deposta una corona alla lapide che ricorda la prigionia nella struttura triestina di Giovanni Palatucci, ultimo questore italiano di fiume, giusto tra le nazioni, servo di Dio e medaglia d'oro al merito civile. Il cappellano provinciale della polizia di stato Don Paolo Rachic ha benedetto la lapide e la corona ricordando la figura di Palatucci. Nato in provincia di Avellino nel 1909, egli frequentò il quattordicesimo corso per vice commissario di pubblica sicurezza e fu assegnato alla questura di Genova. A partire dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, egli, in servizio particolare degli ebrei, con la cui comunità fiumana intratteneva cordiali rapporti di stima e di amicizia, egli salvò la vita a più di 5.000 ebrei, avviandoli ad un campo di raccolta in provincia di Salerno, dove era vescovo uno zio che li prese sotto la propria protezione. Il precipitare degli eventi dopo l'8 settembre 1943 fecero sì che Giovanni Palatucci rimanesse da solo a reggere la questura di fiume e un anno dopo fu arrestato dalla Gestapo e condannato a morte, ma la fena gli fu comuntata nel carcere a vita. Trascorse due giorni nella struttura di Trieste e da lì fu tradotto nel campo di sterminio di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945 all'età di neanche 36 anni. Giova ricordare che il giorno della memoria è una ricorrenza istituita con la legge 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha in tal modo aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Grazie. Grazie.